Buon pomeriggio ragazzi, oggi parleremo di vulcanesimo secondario e di braticismo, vediamo di che si tratta. La presenza di sacche magmatiche nel sottosuolo, come vedete in questo spaccato tridimensionale della superficie terrestre che arriva in profondità, può dare origine a dei fenomeni correlati con il vulcanesimo. In questa immagine vedete un serbatoio magmatico che è posto in vicinanza con una falda freatica, quindi con delle acque sotterranee. Cosa succede in questi casi? L'acqua viene riscaldata, un po' quello che succede in una pentola a pressione, che quando raggiunge la pressione, la temperatura adeguata, sfiata dalla valvola. E' quello che succede e che viene spiegato in questa immagine. L'acqua viene riscaldata ad alta temperatura e poi sfiata. L'acqua che può essere pura, oppure può avere la presenza di alcune sostanze, quindi diciamo le emissioni sono di varia natura. Per cui diciamo che le manifestazioni si presentano sempre in vicinanza con un vulcano attivo o in una fase di quiescenza. In questa animazione vediamo una sacca magmatica che è posta in contatto con una cavità che è piena d'acqua. L'acqua quindi viene riscaldata dal magma e poi si osserva un'emissione, una sorta di fontana di acqua che viene emessa da questa fenditura. Questa è un'animazione che riguarda la formazione di acqua come quando si formano dei geyser, di cui parleremo poi in dettaglio un po' più avanti. I più importanti fenomeni di vulcanesimo secondario sono le fumarole, i geyser, come abbiamo già detto, i soffioni boraciferi, le solfatare, le sorgenti termali e le muffete. Le fumarole sono emissioni di vapore acqueo, quasi puro, in cui però si possono ritrovare delle piccole quantità di anidride carbonica e altri gas, come vedete in queste immagini. Ci sono delle piccole spaccature, delle fenditure da cui fuoriescono questi vapori. Le solfatare traggono il loro nome dalla presenza di grandi quantità di acido solfidrico. L'acido solfidrico che è un acido in cui si trovano grandi quantità di zolfo, il quale poi si deposita intorno alla fenditura formando queste tipiche colorazioni gialle che sono appunto tipiche dello zolfo. Le muffete sono emissioni di anidride carbonica. L'anidride carbonica è più pesante dell'aria, per cui si accumula nella parte bassa, come avviene nella grotta del cane a Pozzuoli, in provincia di Napoli. E ancora i geyser, di cui abbiamo parlato prima e di cui vedete qua una animazione. Sono oggetti violenti di acqua. L'acqua è bollente, la temperatura è molto alta e avviene in maniera intermittente, perché il serbatoio contenente l'acqua che viene riscaldata deve raggiungere una certa temperatura al fine di far fuoriuscire questo oggetto, che è molto alto, come vedete in questa immagine, in cui viene posto in paragone con l'altezza dell'uomo. Fenomeni di geyser, geyser si ritrovano in Islanda oppure negli Stati Uniti, nella zona del parco dello Yellowstone. I soffioni boraciferi si ritrovano all'Arderello, in Toscana. Sono emissioni di vapore ad alta temperatura, intorno ai 200-300 gradi centigradi, che sono ricchi di acido borico. Queste emissioni sono accompagnati da tipici rumori, da sibili e le emissioni sono molto alte, arrivano fino a 20 metri. I soffioni boraciferi, a causa della loro alta temperatura, sono impiegati per far funzionare le centrali geotermiche, di cui qua vedete una fotografia. Un altro fenomeno di vulcanesimo secondario si osserva nella zona di Gioiosa Marea. Gioiosa Marea è un paesino che troviamo in provincia di Messina e quella è una zona molto ricca di vulcani, anche sotterranei. Le isole Olie stesse sono un arcipelago di origine vulcanica, per cui, come potete vedere, appena finiscono queste immagini, vediamo proprio l'emissione di bolle d'aria. Eccole qua, ancora un attimo di attesa, perché sono delle riprese sotterranee, sono delle riprese sott'acqua, diciamo subacque, si sente anche il rumore di queste bolle di gas che fuoriescono da piccole fenniture del fondale. Appunto queste si trovano di fronte al paesino di Gioiosa Marea. E ancora a Paternò, in provincia di Catania, si osserva un tipico fenomeno di vulcanesimo secondario molto particolare, che è quello delle salinelle. Cosa sono le salinelle? Sono piccoli vulcani dalle cui viscere fuoriescono dal gas, che si mescola con il fango che è presente in questa zona e quindi sembra proprio che il fango ribolle. Sono messe in correlazione con l'attività dell'Etna e anzi si pensa che siano capaci di predire in anticipo un'eventuale eruzione dell'Etna. Cosa succede? Quando il fenomeno del ribollire del fango delle salinelle riprende, molto spesso segue la ripresa dell'attività del vulcano Etna. Sorgenti termali si osservano in Islanda, che come sapete è un'isola vulcanica molto ricca di vulcani a scudo e lineari. E cosa sono? Sono sorgenti d'acqua che sgorgono dal suolo con una temperatura molto elevata, molto più alta di quella ambientale. Sono sorgenti ricche di sali minerali perché la temperatura, l'acqua tira via dalle rocce dei sali, sali che hanno un'azione benefica sia per le vie respiratorie, perché i vapori vengono respirati dalle persone che usufruiscono della sorgente termale sia a livello della pelle. Si originano da falde freatiche, quindi sacche d'acqua sotterranea presenti in profondità che incontrano delle rocce calde, calde perché riscaldate dalle sacche magmatiche e quindi poi fuoriescono da fenditure delle rocce a temperature di 40, 45, 50 gradi o anche più. Naturalmente in questo caso la temperatura non sarà così alta, ma è una temperatura alta al punto giusto da permettere di poter fare il bagno anche quando fuori c'è la neve, quindi anche d'inverno vengono utilizzate. Vediamo cos'è il bradisismo, anch'esso è un fenomeno correlato con i vulcani, con l'attività vulcanica. Un fenomeno di bradisismo lo troviamo nei campi Flegrei, in provincia di Napoli. A Napoli c'è il Vesuvio, che è un vulcano quiescente ma è ancora particolarmente attivo a livello del sottosuolo, cioè non ci sono emissioni di lava, quindi non ci sono eruzioni, però continua la sua attività nel sottosuolo. Che cos'è il bradisismo? È un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo. Le cause sembra siano dovute a una variazione del sistema vulcanico, quindi della parte che noi non vediamo direttamente dell'edificio vulcanico. L'aumento della temperatura è di pressione, di magma, di gas presenti nel sottosuolo, quindi deformano il suolo e lo sollevano. Testimonianza del fatto che nella zona di Pozzuoli il suolo si abbassa e si alza in cicli molto lunghi comunque, dovuto al fatto che se si visita il Tempio di Giove Serapeo, in questa immagine potete vedere le colonne del Tempio di Giove Serapeo, che si trova vicino al porto di Pozzuoli, si possono trovare proprio dei segni lasciati dall'acqua, qua non si vedono perché l'immagine è ripresa in lontananza, ma vi assicuro che io li ho visti con i miei occhi, e si trovano anche dei buchi sulle colonne. Questi buchi sono dei tipici fori lasciati da alcuni molluschi marini, i litodomi, che si aggrappano, si agganciano diciamo alle rocce scavando proprio nella roccia normalmente, in questo caso nelle colonne. Quindi in passato i litodomi erano a contatto con le colonne perché il suolo si era abbassato, l'acqua proveniente dal porto era entrata in questa zona e i litodomi hanno creduto che si trattasse sicuramente di un fondale marino invece che di un Tempio. E quindi diciamo in questo momento è sollevato il Tempio, ma sicuramente ci saranno dei momenti tra qualche tempo in cui si abbasserà. I cicli comunque sono dei cicli di abbassamento e innalzamento molto lenti. Io con questo ho concluso, ci vediamo in classe per il brainstorming e per le attività collaborative. Ciao a tutti!